Giovanni Gentile Giovanni Gentile, 1875-1944, filosofo storico della filosofia, pedagogista e politico italiano, in La mia religione dice «Ogni parola che vuole essere parola di verità si lasci scendere nel cuore di ogni uomo con quella divina virtù che la fa intendere a ciascuno nel suo proprio linguaggio, che è il suo modo di sentire e di pensare». Commento «Le intuizioni superiori di Gentile non l'hanno protetto dalla sua adesione ad una filosofia umana che l'ha fatto uccidere da un'altra filosofia umana».